Ho acceso la tv e mi è appresso un episodio di Zack e Cody Guardandolo mi sono reso conto di sapere tutta la sigla a memoria Ecco, la mia domanda è questa Perché le cose che non mi serviranno mai a niente nella vita le so a memoria perfettamente anche in altre lingue E quando devo studiare non memorizzo nulla nemmeno se me lo tacco Amicizia